Salve, salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su YouTube. Avete letto bene il titolo del video? Pennelli e baci ti stenderanno. E questo è il titolo del video. Prima di iniziare vi ricordo di supportare il canale lasciando un like, un commento e se non lo siete ancora abbonatevi ragazzi per supportare anche tutti i vari ASMR show. Quindi iniziate. Come ogni sera infatti siamo in live, potete salutare YouTube. Iniziamo con pennelli e baci. Con pennelli e tormenti. 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 Invece a mettere l'hugs. Invece a mettere l'hugs. Invece a mettere l'hugs. Invece a mettere l'hugs. Grazie, Erika. Grazie. 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 Ciao Mirjana. Non distrarti. Potrebbe entrarti. Non distrarti. Potrebbe entrarti. Potrebbe entrarti. No, no, no. Non distrarti. Potrebbe entrarti. non distrarti, potrebbe entrarti, non distrarti, potrebbe entrarti, non distrarti, potrebbe entrarti, 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 potrebbe potrebbe entrare tutto dentro potrebbe entrare tutto dentro potrebbe entrare tutto dentro potrebbe entrare tutto dentro potrebbe entrare tutto potrebbe entrare tutto potrebbe entrare tutto doppio pennello doppio codimento doppio pennello doppio codimento doppio pennello doppio codimento potrebbe entrare tutto potrebbe entrare potrebbe entrare potrebbe entrare tutto potrebbe entrare tutto Non ti mangiare, non ti mangiare 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 Sì, è un colpino che dorme. Con questo brush ti dormi? Con questo brush ti dormi? Un nome genderfluid è Andrea Un bel nome genderfluid Grazie 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 Grazie